Davanti alla sede RAI di Napoli e a quelle delle altre città italiane, protesta di candidati e attivisti di potere al popolo contro la censura mediatica. Al centro del programma del partito, la lotta per i diritti dei lavoratori. Esiste un'emergenza in questo paese e bisogna cominciare a trovare delle risposte. Noi lo facciamo già ogni giorno sui territori, costruendo iniziative di solidarietà e di lotta. E questo è il paese che vogliamo raccontare. Grazie per la visione!